Eventi come questo di oggi di Cagliari del 25 ottobre 2016 sono a mio parere fondamentali per focalizzare alcuni temi e per fornire elementi interpretativi anche in temi in cui la comunicazione è notevole, forse soprattutto per quello, perché sono un punto d'incontro intanto fra specialisti del settore che però cercano di dialogare fra di loro e col pubblico in modo aperto a proposito del tema degli open data senza crearsi delle torri di avorio all'interno delle quali rinchiudersi, magari protetti da un linguaggio eccessivamente specialistico. Il confronto fra discipline diverse di tipo giuridico, tecnologico, economico infatti è fondamentale quando ci si addentra in discipline trasversali per definizione come questa. Oltretutto è un modo per far conoscere quello che i singoli operatori del panorama ICT nazionale non solo e le amministrazioni che si occupano di temi relativi all'ICT, di tutela del consumatore e allo stesso tempo di trasparenza occasioni che i singoli operatori e appartenenti hanno per parlare della propria attività.